Buongiorno a Linda D e buongiorno a Immacolata Giuliani. Allora, un convegno che si va ad aprire proprio su un tema che ci riguarda perfettamente in questa giornata. Il convegno è un punto di riflessione sulla condizione della donna sempre più vittima di abusi e violenze di genere. La donna purtroppo è alle cronache quotidiane come violenza intrafamiliare e familiare. Il convegno soprattutto spinge alla donna sempre più vittima a denunciare al primo campanello d'allarme. Questo è importante perché quello che preoccupa non sono le statistiche, i dati, ma è il sommerso. Allora, ascoltiamo Linda D, questo nuovo brano musicale, Anima Rotta, dedicato a tutte le donne che hanno subito violenza. C'era il vento, c'erano i silenzi, c'ero io che non ero mai, niente spazio fra gli spazi immensi. Sì, bucciami, resta l'anima rotta. Sì, bucciami, resta l'eternità. Per guarire ferite scavate con il sangue di chi non sa. Guarda la libertà, è una macchia distante, una corda sul collo di chi non ce l'ha. Grazie a Linda D, grazie a Linda D. Allora, ripetiamo il convegno che si tiene oggi a Roma. Oggi è Roma, appunto, contro la violenza sulle donne. Noi donne, una battaglia da vincere. Invitiamo non solo le donne a partecipare, ma anche gli uomini, perché la battaglia va fatta appunto tra uomini e donne. E salutiamo anche Linda D con questo brano. Linda D ha sfiorato Sanremo, ci fa piacere di salutarla. Grazie per questo impegno che ha dimostrato. E a questo punto andiamo da...